L'Università di Catania dice basta alle sedi decentrate. Attualmente in Sicilia sono due, lingue araguse e architettura siracusa, alla scadenza naturale dei contratti che per la facoltà retusea avverrà nel 2014, l'anno successivo per quella eblea. Non ci saranno più sedi decentrate ma le facoltà presenti nelle due città siciliane potranno rimanere ed essere messe a rete con l'Ateneo Catanese che si farà completamente carico delle spese. Lo ha deciso il Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Catania. Scriviamo la parola fine sull'affaire decentramento, ha commentato il rettore Antonino Recca, che ha ricordato come nel 2006 l'Università di Catania avesse 10 sedi decentrate per un totale di 47 corsi di studio attivati in mezzo a Sicilia. Abbiamo condotto, dice ancora Recca, con rigore e fermezza una profonda opera di razionalizzazione, disattivando progressivamente tutti i corsi, sino a rimanere solo con lingue raguse e architettura a Siracusa. Due realtà che consideriamo eccellenti, sottolinea Recca, ormai stabili e radicate, in cui i nostri docenti riescono ad assicurare con il loro impegno un'offerta formativa di qualità assoluta assai apprezzata dal territorio. Due realtà che avrebbero potuto benissimo divenire sedi di Atenei pubblici a sé stanti, ma ciò come dimostra quanto avvenuto in molte città del nord, dipende da specifiche decisioni del Governo nazionale. Non può essere, insomma, spiega il Rettore, l'Università di Catania ad attivare nuovi Atenei, specie in un momento di così grande difficoltà economica. Negli ultimi sei anni i fondi statali per l'Ateneo di Catania hanno subito un taglio di circa 35 milioni di euro e per il 2012 si prevede un decremento ulteriore pari a 3 milioni di euro.